Buonasera a tutti, bentornati al TG di AC Milan Inside. L'esordio in maglia azzurra per Matteo Gabbia è rimandato. Perché dico questo? Perché ieri sera la nostra nazionale italiana ha giocato contro il Belgio e la partita è terminata per 2 a 2, ma il nostro rosso-nero è rimasto in panchina per tutti e 90 minuti. Rivedremo però gli uomini di spalletti in campo lunedì alle 20.45 contro l'Israele. Potrebbe essere questa la partita dove vedremo finalmente il nostro rosso-nero con una maglia da titolare? Per scoprirlo non vi resta che continuare ovviamente a seguirci. Facciamo però un passo indietro e ritorniamo a parlare dell'argomento serie A in particolare, la prossima partita contro l'Udinese. A causa dei suoi scarsi rendimenti fino ad adesso, ma soprattutto a causa dell'episodio avvenuto contro la Fiorentina, probabilmente Tomori sederà in panchina e al suo posto ci sarà Pavlovich. Nonostante la pausa delle nazionali, a Milanello si continua a lavorare e in particolare si dà un occhio a chi è infortunato, sto parlando di Love to Chic e Calabria. Per entrambi infatti c'è una continuazione per il programma di lavoro individuale al fine di riportarli disponibili per i prossimi match, che saranno match molto molto impegnativi. Brutte notizie ma già lo si sapeva invece per Florenzi e Benazer che sono gli altri due infortunati. Per rivederli in campo mi sa che dovremo aspettare fino al 2025. Queste sono tutte le news di oggi, attendiamo con ansia la prossima partita di Serie A dei nostri rossoneri, per il momento continuiamo ovviamente a tefare Italia, ma voi continuate a venirci a seguire sui nostri social, mi raccomando.